Domenica 17 ottobre alle ore 11 del mattino ho organizzato una manifestazione qui in piazza Cavour dove mi piacerebbe vedere tutti quei comaschi a prescindere dall'appartenenza politica che ritengono che questa amministrazione, questo sindaco e con lui tutta la giunta e tutti i consiglieri, quindi me incluso, se ne debbano andare a casa. Perché? Perché abbiamo fallito, perché c'è la città che è a pezzi, c'è la Ticosa che non nasce ed è un quartiere oggi in totale degrado, ci sono le paratie che non avranno nessuna funzione anti-esondazione e di fatto l'unica cosa è stato bloccare la città per anni per avere una passeggiata un po' più larga e mancano i soldi per finirla. La stessa piazza Cavour dove ci incontreremo è a pezzi ed è la prova di una carente manutenzione ordinaria, grandi opere, grandi fallimento, grandi tragedie. Io direi che questo sindaco se ne deve andare. Buono sarebbe incontrarsi in piazza Cavour in tante persone, questo è l'auspicio, perché sarebbe la prima prova con partecipazione di persone e non digitale, cartacea, sondaggio, ma vedere tanta gente che non ha più voglia di sostenere questa amministrazione. Quindi domenica prossima, 17 ottobre alle ore 11 in piazza Cavour, Brunigo Home, dalle 11 a mezzogiorno. Alle 11.30 una foto di gruppo che se la manifestazione deve sentire bene manderemo via posta elettronica al sindaco.